Si è tenuto a Biella il primo congresso provinciale di azione tra gli iscritti della formazione politica guidata da Carlo Calenda. Una riunione che si è aperta con la scelta unanime dei presenti di affidare a Gianluca Susta il compito di presiedere l'Assemblea e di guidare i lavori. Tutti gli iscritti collegati hanno concordato sulla necessità di una netta alternativa rispetto a una destra appiattita su un nazionalsovranismo che stride con la tradizione democratica dell'Europa e una sinistra che più che a creare le condizioni per governare il paese mira a vincere. Al termine gli iscritti hanno nominato il coordinamento provinciale. Il compito di rappresentare azione è stato affidato a Davide Dallarole e è stato deciso anche di dare vita a un gruppo tematici specifici. Deborah Ferrero e Giorgio Andreotti si occuperanno di sviluppo economico, Teresa Varresi e Nicola Ugliengo di scuola, formazione e cultura, Sara Novaretti di sviluppo del territorio, Daniele Tassoni di società, Nicola Ugliengo e Michele Role-Muccetta di rapporti con gli enti locali, segreteria organizzativa è affidata a Sandro Zegna, tesoriere Sara Claudio Zoya.